Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Yimer che vi parla E siamo tornati su Kingdom Hearts Reverse Rebirth Sempre di Chain of Memories E siamo sempre in compagnia del nostro caro amico Riku E siamo arrivati al settimo piano interrato Dopo aver battuto la nostra pseudocopia Che abbiamo anche incontrato nella storia di Sora E siamo pronti per continuare la nostra avventura E abbiamo qui 4 nuove carte mondo Atlantica Monte Olimpo E paese delle meraviglie E città di Halloween Io direi di cominciare dal primo O meglio Atlantica 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 Eh potevano anche lasciare senza stottotitolo secondo me è qui perché meno male il nome è lo stesso Spagna Me l'hai fermata E io te lo fermo Mi fermo la carta di livello Ok Ho poche carte Vai, aumentiamoci l'attacco Quanto stava a durare la tua Olle Oh, jolly Cosa lì? Come si chiama? Ok Oh, ma questo è dura Fa fermarmene Oh, bravo Dai, dai Oh, il pesciolone è arrivato Oh, bravo Quanto stava a durare la tua Och, vai With me Come on! Boom! Whadah! in fondo al maaaan in fondo al maaaan oh non c'è ragazzo colpito ma sono per muscolo mi fac ma le vuoi puo caga uscura 813 punti mancano andiamo un po' dove devo andare quindi devo andare a destra olè non mi ho peccato è non poter non poter come dire no me l'ha fermato sul più bello non mi ho peccato Oh, non ci vedo più! Oh, non ci vedo più! Voilà! Ah, non ci vedo! No! Dai! Nooo Mi andava a fischia Mi hanno circondato Vabbè andiamo qua Mondi combinati No Qua ce l'ho Vai Vorrebbe essere qui Sì Non farmi sempre il fermacarta Come vorrei avere più carte Perchè sono arrivati altri Vabbè Vabbè Nooo Non me l'ha fermata Tutte carte alte avete? Non lo so io Volevo curarmi Maledetto Terra di incontri E' comparsa la medusa Così No dai però Vai Vai Perché non faccio più cosa? Voilà Il pesciolone Un pesciolone baby Ah no, se ne erano lui i pescioloni Oh scurità, ok Ah, venti blu Vai, chiave del principio Boss Boom Boom Ursula Machao, bellissima Get ready for this This won't be pretty Aia, tutte le ho prese Boom Life Dai This won't be pretty Aia Dai Dai E' nico da Ursula Aia No 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 Dai il colpo Però non gli ho fatto niente E vabbè Ma il raggio della morte no Pura mia Bravo Dai Vai battuta Ciao strega del mare Ursula Grazie Guarda qua nella mappa ci sono anche i pesciolini sopra là che si muovono Non li avevo ancora visti Olè siamo usciti dal settimo piano No, viola No, viola So you can carry out your little experiments, that's all. I'm a scientist. Experiments are what I do. Yes. Whatever. You can do what you want. But you know, I think testing Sora is just a cover for testing your valet. Valet? He's the product of pure research. What he actually is, is a toy. Hmph. You should just learn to be quiet. Anyway, since you came all this way, you're gonna need this. A humble gift to my elder. I hope you use it to put on a very good show for us. That card holds the memories of Sora and Riku's home. It's just a card. What good is that? With a little help from Naminé, you'll have all the real Riku's memories. Maybe we can get her to make you forget you're nothing but a fake. In other words, we'll remake your heart so you can be exactly the same as the real Riku, okay? You want to remake my heart? The real Riku is a wimp who's afraid of the dark. What do I want with the heart of a loser? Any objections, Vexen? After all, you do want to test Sora, don't you? It must be done. How can you? Are you betraying me? I told you I would make good use of you, didn't I? No! Relax, kiddo. I don't think it's gonna hurt that much. I'll hurt you! Stupid little toy. Think you could defeat me? Where would you ever get a thought like that? But, look on the bright side. Along with everything else in your head, Naminé will erase the memory of me knocking you flat. Instead, she will implant the loveliest little memories you could ever hope for. It's no big deal that they're all lies. No! No! Minchia. Il falso, meno male, si sta mettendo paura, eh. Molto! Bene, ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. E, alla prossima! Ciao belli!